Tutto ebbe inizio la notte del 18 aprile 2020 Sembrava una notte come tante Bianca, quello che mi hai raccontato è sconvolgente Ma c'era nell'aria qualcosa di strano Qualcosa di profondamente inquietante La storia che ti sto per raccontare Non è una storia come le altre La storia che ti farà bene e bene Credo che l'abbiano rapito Bianca! Dove sei? Che diventa da Roma?